Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati subito con un... scusate, sono vintiato, mi metti il ricorso come fatevi Comunque, eccoci qui con un nuovissimo video di For... anzi, no con un nuovissimo, con il nostro primo video di Forstment Io vorrei vedere... Carina la musichetta! E oggi andiamo a fare una cosa un po' carina, che non so neanche dare il titolo comunque Allora andremo subito dall'armadietto e l'arma che ci uscirà dovremmo usare solo quella L'arma che ci uscirà, fra queste qua dovremmo usare solo quella Perfetto, no? Allora io chiudo gli occhi, andiamo Uno, due, tre... no scusate, quattro, cinque, sei Ma... vabbè faccio... ma gli occhi... apposta me lo fai... uno, due, tre, quattro, cinque... il pompa Ma stiamo scherzando il pompa? Solo il pompa? Ok raga, solo il pompa Sarà impossibile Evviva! Intanto, vediamo... Cerca dei forzieri Beh, più semplice così, comunque ho guardato Ma mi è mai successo? Io finisco tutto il passo Però ora lo devo finire, per forza, a tutti i costi Solo io non lo finirò mai Perché non può Anzi, aspetta Un attimo raga Se faccio questo livello Almeno vorrei aggiungere i 10 like Se facciamo questo livello Pensate voi Vado al 100 Vabbè pure se non faccio la squadra Top 12 Cerco i forzieri Lo faccio ogni giorno E quindi Dai Dobbiamo andare La cosa brutta è che non ho ancora La prima fase Dai, vabbè Dai La cosa brutta è che non ho La fase 4 Perché non so dove andare Fatti che io non gioco Pure da un bel po' Ok Dove andiamo? Daga, 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 daga Daga, 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 daga Ehm Fatti che solo pompa Direi Non so Solo pompa Direi Sul borgo bisracco Borgo bisracco Dai, scelgo borgo bisracco Così da nulla Però devo andare in città Oh, questo qua con un ombrello Non mi lascia Allora Andiamo, andiamo, andiamo Dai, cuffia Zitto, zitto Zitto Ecco Andiamo Dan, 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 dan Ma non c'è niente Oh, finalmente una cassa No, non posso No, non posso Vediamoci almeno che scelte Dai, chiedo almeno un tattico Ora c'è niente Un tattico Anche almeno un tattico Un tattico Chiedo solo un tattico bianco Beh, beh La trappola ci sta sempre E il pompa, e il pompa Vabbè I scendini non è un problema Però Però Trovare un lancio granate È un problema Molto grave Cioè Comunque Vi spiego subito Come sono io su Forse Allora Io non sono né pro Né nabbo L'unico Se è brutta Che è Non so fare big button Vabbè Quello mi Ora penso Stare dicendo tutti Buh Fai schifo Visi Buh Però Oh, non è colpa mia Raga Sto cercando pure Di Impararmele Questa è ancora casa Penso che non è arrivata Con il massimo vado A Io non ne sono Una storia E stiamo scherzando Da Però Non mi potrei fare sempre questo È Un Tattico Che È Bello Il tattico L'arma Più Bello Dai Questo Posso uscire Ma che ci penso pure prima Dai Andiamo Uh Là c'è come poi L'esprez Ti In One In No azzi un tattico da dove? non mi ha visto è buono poi è come gli scemi ma che brava pura sono sono morto davvero come gli scemi ahhh comunque io vi dico che è singolo ve lo dico già non ho mai fatto un vettore reale voi non potevo fare pure tre con la tempesta voi sapete quanto si vuol dire la tempesta è stessa cosa mia io la odio più di tutte le cose andiamo 1 2 3 4 5 ancora ma c'era proprio contro me eh io ti faccio ballo anzi faccio capire la felina così ammazzino pure i palci dai sei un mito quindi si sei un mito ricordatelo sei un mito ricordati guardati 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 ma chi è fatto scorreggio che il mantello stava volando la taglia è reale tu mi dovrei offrire solo una cosa almeno 3 kg però almeno io ci penso ha fatto almeno una ghil non è semplice pure perché puoi fare solo o il fatto il fatto ma pure io o big battle o solo mi spiace no dai non è vero comunque sto facendo o solo big battle o solo fight l'intriga ora io direi direi non so dove andare questo parco è solo anzi dai sponda sponda assassin creed chi? chi si chiama assassin creed? chi? che c'entra quella chi? boh chi lo saprà mai vabbè lui lo saprà ovviamente però ma però in precedenza sponda non è una con molti pompa massimo se trovo trap trappole ma se si trova trappole o qualcosa il mio con un po' di grano pompa subito con un po' ehi manco cominciato dai ci credo io no dai ho fatto edishot col pompa del nonno sto facendo questo video durerà davvero poco dai ora non solo pompa ora lo farò nell'altro verso scommettiamo scommettiamo che mi esce lancia granate lanciarazzi sempre se c'è no mi sembra non mi sembra neanche che c'è lanciarazzi e le dicevo io che non c'era una due tre quattro cinque e fucile d'assalto fucile d'assalto fucile d'assalto buono e io ballo stile libero perché sono libero di uccidere tutti guarda 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 si è un mito wheezy puoi arrivare almeno in top 15 mi metto a casa poi arrivo solo un po' di più guardate 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 per quanti li vedono ho fatto il passo beh chi lo sa se lo faccio eh 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 non lo farò mai dai ora voglio vincere il nome dei Kinder no no rischio troppo vorremmo fare una ghille ecco una ghille non lo rischio troppo va bene 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 guardate guardate incredibile io devo andare a tempio eh stavolta ti ringrazio stavolta non mi freghi tu va bene vai vai mi sono dimenticato in tutti i video una cosa importantissima ma non è neanche ucciso non è neanche ucciso che è brutta che è brutta alcuna volta la vita ma perdi perdi per casa ed ecco siamo finalmente arrivati con il primo video di fortnet ne compariranno vabbè non ne compariranno come ci penso ne farò altri altri vi dico già che farò challenge mappe su creativa vabbè quelle là ancora ci devo fare mappe su creativa poi pure alcune volte tipo sfide con qualche amico e faccio qualche sfidetta per esempio parco giochi solo chi vabbè oh poi mi invento dopo qualcos'altro comunque ciao a tutti raga è stato felice stare con voi e ciao ciao